Per quest'anno il percorso è provare ad andare in Serie A, poi l'anno 21 di questi diciamo qual è il programma, io so cosa vuole il Presidente ma non so se sono autorizzato a dire programmi biennali, come in Russia quando facevano i piani quinquennali, piani decennali che poi non si realizzavano mai, quindi facciamo il piano annuale e tentare di andare in Serie A. Posso chiederle quando lo rivedremo allo stadio? E questo bisogna chiederlo ai suoi medici, lui sta meglio eccetera, ma questo gioco della positività, della negatività, dei giorni eccetera, la sua passione sarebbe di venire domani allo stadio, questa è una risposta da medico, non è certamente la passione del Presidente, ma il Presidente era previsto che ci fosse a Prosesto Monza, poi Prosesto Monza è stata annullata per via di qualche positivo del Prosesto e poi è successo questo Presidente, ma il Presidente per dire la sua passione era assolutamente previsto quella sera a Sesto a vedere Prosesto Monza. Presidente, ha scritto un messaggio a te, la Tani Bregg? Presidente, sì, sì e mi ha risposto immediatamente. Ibra mi ha chiamato a capo. Ibra mi ha chiamato a capo, ma la forza pazzesca di Ibra, Ibra è un leone, Ibra è qualche cosa di incredibile, ma ha ringraziato e mi ha mandato una foto di tutte le casse di Corona, la birra Corona, perché questo coronavirus è troppo forte, c'erano tutte queste bottigliette di Corona con Corona eccetera, Ibra è troppo forte. Presidente, quanto mancherà stasera al Milan? Ibra mancherà tantissimissimo, tantissimissimissimissimissimo, ad esempio io stasera il Bovo a cenare con me gli ho detto, sì amico mio, ceniamo insieme ma andiamo in un ristorante dove guardiamo Milan, però sì sì sì, e quindi 31 anni non si dimentica. Comunque Ibra è sovrannaturale, basta vederlo insomma, basta vederlo quello che fa a quasi 39 anni, Ibra è pazzesco.